Roma, 6-9. Ascanevs, borse asiatiche in ribasso oggi sulle parole del presidente statunitense Donald Trump, che ha definito non corrette e aperte alcune pratiche commerciali nel continente, e in particolare del Giappone. Sulla giornata incide anche l'allarma lanciato dal governatore della banca centrale cinese, Zhao Xiaokuan, che ha definito complessi, poco chiari e pericolosi i rischi per il suo paese derivanti da un massiccio uso della leva finanziaria.